Anche noi giornalisti di Fano TV abbiamo deciso di fare il tampone questa mattina, vi portiamo a vedere come funziona. Si chiama test antigenico rapido ed è basato sul tampone nasofaringeo. Il paziente, dopo essersi seduto, dovrà sottoporsi al prelievo effettuato dal personale medico infermieristico dell'Asur, che in pochi secondi gli infilerà un bastoncino simile a un piccolo cotton fioc in entrambi le narici. Una procedura semplice e poco invasiva, il test è in grado di rilevare la presenza del virus e di fornire il risultato in circa 15-30 minuti al massimo. Se il test antigenico rapido risulta negativo, il paziente può stare tranquillo e tornarsene a casa. Nel caso in cui, invece, sia positivo, il soggetto viene immediatamente sottoposto a un secondo tampone nasofaringeo per il test molecolare e posto in isolamento domiciliare fino all'esito di questo. Contestualmente anche i familiari conviventi dovranno sottoporsi alla quarantena e la macchina comunale in moto da giorni per prodisporre a Pesaro le tre strutture in cui avviare le operazioni per il momento sembra essere soddisfatta, come ammette lo stesso sindaco Matteo Ricci. Mi dicono che già siamo a circa 800 tamponi effettuati e quindi significa che c'è anche una bella risposta delle persone. Saranno sei giorni importanti, sei giorni di opportunità gratuita per tutti di controllarci e di fare uno screening che faccia emergere anche statisticamente un dato perché capire quanti dei tamponati saranno positivi diventa anche un dato statistico utile per capire quanto sta girando ancora il virus complessivamente nella nostra città. Devo dire che abbiamo dato subito piena disponibilità insieme al sindaco e alla giunta di collaborare con l'iniziativa della regione Marche e abbiamo allestito i tre punti Vitrifrigo, Campus e Santa Marta strategici dal punto di vista della viabilità non stanno creando particolari problemi e abbiamo coinvolto subito volontari di protezione civile, Croce Rossa e volontari di quartiere. Oggi è partito questo servizio importante promosso dalla regione Marche, una grande soddisfazione. Sì, io voglio ringraziare l'assessore Saltamartini, la sanità, tutta la giunta e tutti gli operatori dell'Asur e anche la protezione civile per il grande lavoro che stanno svolgendo sotto il coordinamento del comune di Pesaro. È un'operazione imponente, siamo l'unico caso in Italia quindi l'invito che faccio è quello di partecipare il più possibile tutti i pesaresi, gli urbinati e poi nei prossimi giorni, comunicheremo nelle prossime settimane e anche tutti gli altri comuni piano piano faranno questo screening generale. Quindi partecipate numerosi e grazie a tutti i volontari e a tutti coloro che ci stanno lavorando.